Musica Ragazzi finalmente potrete soffrire di tutti i nostri servizi che trovate qua E inoltre con il codice sconto BLUES237 avete 5% di sconto Se ne volete acquistare qualcuno scriveteci qua sotto nei commenti o in direct su Instagram Questi sono i nostri nickname Inoltre ragazzi seguiteci su TikTok postiamo video o nei due giorni Buona visione E bene a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft Dita Mi scuso tanto ragazzi perché per sbaglio ho eliminato la prima parte del secondo episodio Spero che potete perdonarmi Comunque non è successo niente vi garantisco ho solo raccolto la legna e mi sono spostato all'abitazione Come avevo premesso nel primo episodio Bene ragazzi adesso ballo le cianci Ok ragazzi ho lavorato due giorni di fila e ho distrutto in totale quattro asce di legno Ho detto finché non si rompono io continuo a prendere legno Io non so quanto legno sono arrivato Vi giuro non ho ancora aperto il menu ma lo aprirò insieme a voi 3, 2, 1 Ho fatto quattro stack e mezzo di legno Darci a fare subito un po' di legno normale Direi di andarci a fare delle casse Così almeno possiamo dividere meglio le cose Perfetto Ora io direi di lasciarmi un po' di legno così Perché mi piace come anche Perché mi piace come anche Perché mi piace come anche No god No god please no 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 Oggetto decorativo Direi di iniziare a posizionare tutte queste casse Perfetto Quindi adesso Qua ci mettiamo tutto il legno Perfetto Quindi prendiamo le cose originali Quindi prendiamo il legno Il legno Ok Perfetto In una cassa ci mettiamo tutte le cose per costruire Quindi Oh cazzo ho dimenticato il legno Vabbè Mettiamo la cobblestone Qua le cose il legno Qua le pietre Ok Perfetto Mi sono dimenticato una stack Mamma mia ragazzi ma quanto legno abbiamo fatto Quanto legno abbiamo fatto Vai Terra Porta Adesso facciamo la cassa del cibo Quindi Prendiamo questo Prendiamo questo Prendiamo questo 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 Però prima li cuociamo tutti Che ne dite Che a me non mi piacciono crudi Abbiamo fatto veramente un bellissimo lavoro Un bel lavorone Vabbè Ah rega ma lo vedete pure voi Ma che cazzo è Perché il mio voletto è invisibile? Va bene È invisibile Va bene Gli oggetti da costruzione Ci mettiamo pure le torce Perché le torce Sono oggetti da costruzione Giusto? Le metterei in cima Alla cobblestone Poi Tutta la roba inutile Tutta sta roba qua inutile Nell'ultima cassa Che non si sa Un giorno potrebbero essere utili Cominciamo a mettere la roba inutile Roba inutile Questo che è Roba inutile Roba inutile Roba inutile Roba inutile Roba inutile Roba inutile Inutile Roba semi inutile Perfetto Spero che si sia Oh Perfetto Vai Mettiamo i pesci Ok ragazzi Ed infine Nell'ultima cassa Ci mettiamo tutte le nostre armi E attrezzatura Quindi piccone Piccone Armi Ok Sinistra delle cose utili E a destra tutte le armi A proposito Io direi di craftare qualcosa Visto che siamo ricchi E la prima cassa che ci mettiamo Poi vedremo Il problema è che ora abbiamo due casse vuote Va bene ragazzi Più avanti ci verranno in mente nuove idee Comunque Io adesso qua vedo delle pecore La delle mucche Mentre si cuoce tutto Direi di fare altra carne Direi di raccogliere pure le canne a zucchero Perchè più avanti ci faccio la farm Ok Direi che per il momento può bastare No Posso correre Ok Mettiamo l'altro Costalette Dormi Oh alleluia Però mi piace veramente il mio letto invisibile Bello Complimenti al costruttore Cioè io vorrei Poi guardate questi colori Che si confondono perfetto Con il pavimento È spettacolare ragazzi Cioè io non ho mai visto un pavimento Cioè un letto così bello Ok livello 9 Io ragazzi ho in mente tante farm da fare con voi Se mi date l'opportunità di portare avanti questa serie Vi prometto grandi cose Facciamo pure un po' di semi Oh altre canne a zucchero Buono Buono I semi Ci facciamo una bella Far di grano Tutto automatico ovviamente Ogni volta che uccido un animale Ne sporrono tre Cioè non è possibile Il pollo è cotto Il manzo è cotto Ah Ecco cosa manca Mettiamo qua le cose da cuocere Va Se no mi confondo Le miele non si possono cuocere Vero? Mettiamo una cazzata Materiali da costruzione I bastoni Che non mi servono Ok La roba che è inutile Sta aumentando Allora Manzo Sta lì Ok là Ci mettiamo Tutto il manzo Qua le costolette Il pollo Il merluzzo Vabbè abbiamo altro cuoio Abbiamo della lana Allora io la lana la metterai dagli oggetti di costruzione Dalla terra non ci serve Prendila E buttala Via Ok ragazzi Ho sistemato un po' tutto Io ho la prima cesta La lascia da vuoto Perché non ho idea di che cosa metterci Quindi consigliatemi voi Mi ha detto invisibile Tanto per mancare Consigliatemi voi Qualcosa da mettere in quella cesta È che io non ne ho la più palida idea Più avanti magari che ne so Della lana colorata Nel quarzo Non lo so Allora qua ho messo tutto il cibo Qua tutto il legno Qua tutte le materie da per costruire Qua la roba inutile Barra pozioni E qua tutte le mie armi Come potete vedere il mio ventale vuoto Però finalmente abbiamo organizzato tutto Ragazzi per questo grande episodio E faticoso Ho disboscato la foresta Lasciatemi un bellissimo like Così almeno arriviamo al prossimo episodio Spero che vi sia piaciuto Come ho già detto Consigliatemi qualcosa da mettere in questa cesta Che No questa In questa cesta che non ne ho la Più palida idea I minerali Ferro Orro Ok perfetto ragazzi Non consigliatelo più Ho capito Questo video è tutto La nostra casa La finiremo nel prossimo episodio Ragazzi vi giuro Nel prossimo episodio Finiremo Finalmente La nostra casa E poi incomincieremo A andare in miniera Prendere i minerali E incominciare a fare le farm E più o meno Incominceremo Ad abbellire tutto il mondo Per questo episodio Di minecraft E' tutto Ci vediamo al prossimo Bella So tell me where the cash at I've been on the fast track Shorty want my heart But I can never back